A pochi giorni dalla ripresa delle elezioni in presenza arrivano già le notizie dei primi alunni positivi al Covid-19. Ad Afragola un caso di contagio è stato registrato nella scuola paritaria Nicola Gargiulo, sita in piazza Gianturco e diretta dalle sue Recompassioniste Serve di Maria. La voce che trapelava tra i genitori già da sabato è stata confermata solo in mattinata, quando l'ASL ne ha fatto comunicazione ufficiale al primo cittadino Claudio Grillo. Dalla scuola non sono stati forniti altri dettagli se non che tutti i protocolli di sicurezza sono stati attivati e che il caso positivo insieme ai suoi compagni di classe e l'insegnante è in quarantena. Purtroppo anche a settembre furono registrati diversi episodi di contagio nello stesso istituto scolastico tra alunni e personale dipendente. Anche in quel caso, come da regolamento, si avviò la sanificazione dei locali e fu immessa in quarantena la classe frequentata dall'allievo contagiato, mentre per tutti gli altri le lezioni proseguirono normalmente. La notizia però non può chiacuire ancora una volta il dibattito, ma è realmente chiuso tra genitori che vorrebbero continuare per questioni di sicurezza la didattica a distanza e genitori che invece ritengono fondamentale il ritorno a scuola. Anche tra questi però la paura non accenna a sparire. Da genitore comunque abbiamo paura perché la situazione non è delle più facili, però se De Luca ha deciso così, è così.